mmm cosa ci sarà mai qua dentro vediamo subito vediamo se ci riesco con un dito spacca 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 tutto spacca tutto va 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 chi c'è ma va chi è arrivato e questo come lo spagetto brava ciccocco seguiamo la linea nintendo aia mi sono fatto male lo sapete voi che adesso ci giocherò mentre sono a scuola vero ma lo sapete ha anche più veri è un vero quanto si fa ecco 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 dai che ci sono così riuscito dai eh più o meno ci sono riuscito ho spaccato qualcosa eh perché ho spaccato qualcosa ok questo è il codice che vogliono tutti quanti quindi se ne va a fanciuffo questo pure ma li prete delle istruzioni manco più caspio 3ds XL a me pokémon X è stato Y vabbè è stato non pacere riuscito morto ah ma stavo giocando al link vabbè che cosa non mi interessa delle notifiche posso sentire eh sì certo certo mamma mia vabbè dai per questo video possiamo dire che è tutto e ciao ciao